Oggi vi ho portato in una delle vie secondo me più caratteristiche di Roma perché unisce storia e criminalità. Questa è una via del XVI secolo che costeggia l'acquedotto Felice e che da una parte nel 1943 è diventata il rifugio di tutti gli sfollati di San Lorenzo. Scusi signora, da quanto tempo abita qui? Sono 18 anni. Come è venuta in Borgata? Dove abitava? A San Lorenzo, sono sinistrate di San Lorenzo. Ah, in seguito ai bombardamenti? E pian piano con le baracche che hanno costruito tutti gli sfollati che sono state cedute è diventata una zona criminale perché poi l'hanno data a gente che non c'era soldi, gente che voleva fare strani traffici, prostituzione e tutta una serie di eventi. Infatti questo ingresso qui che è la parte via Tuscolana, qui abbiamo la porta furba qui dietro a noi, è la prima parte dove c'era l'accesso proibito. Ma ancora oggi via del Mandrione è una via un po' off limits perché al di là che adesso c'è il divieto per problemi strutturali, via del Mandrione è una via dove se entri te guardano un po' male. E oggi noi cercheremo di entrare, cercherò di mostrarvela perché via del Mandrione da qui dalla Tuscolana arriva fino alla Casilina, costeggia l'acquedotto Felice e costeggia la ferrovia. Questa è la fontana di Papa Clemente XII, in realtà era la Fontana Felice. Un secolo dopo Papa Clemente la fece ristrutturare ed ampliare come la vediamo in questo modo ed è ancora oggi in funzione. Come dicevo quest'area ha sempre accolto anche persone disperate e qui proprio alle pendici dell'acquedotto ancora oggi ci sono persone con difficoltà. Vedete qui per esempio c'è il giaciglio di un senza tetto che vive qui da tantissimo tempo, ho anche conosciuto, beve tantissimo, dorme qui e cerca in qualche modo di arrangiarsi. Ma adesso entriamo invece all'interno di via del Mandrione, proprio dall'accesso e costeggiamo l'acquedotto e vi spiego perché quest'acquedotto è stato utilizzato e ancora oggi ci sono tante case, tante baracche e alcune situazioni ancora particolari. Quest'area qui ancora oggi è poco trafficata e un po' temuta perché negli anfratti di questa via succede un po' di tutto, vedete basta un angolino così e voi trovate comunque siringhe, cose particolari. Ecco guardate, vi faccio subito un esempio. In quest'angolo qui c'è una siringa a terra, un'altra siringa lì, un tovagliolino col sangue. Questo è il classico posto dove si viene anche a fare cose illecite. Qui c'è probabilmente un'abitazione, adesso non lo so perché come vedete c'è una porta, ma questo è l'acquedotto. E voi dovete sapere che qui nel 1943, quando praticamente ci fu il bombardamento a San Lorenzo, tutte le persone vennero e iniziarono a costruire baracche a ridosso dell'acquedotto, sia utilizzando la parte murale dell'acquedotto, sia utilizzando praticamente gli anfratti, gli interni dell'acquedotto. Più avanti probabilmente vi farò vedere delle case, delle ville costruite proprio all'interno dell'acquedotto stesso. Dall'altra parte invece, oltre a delle case, c'è tutta la parte ferroviaria, perché qui costeggia praticamente la ferrovia e ci sono tantissimi treni che passano, sia regionali che locali. Si dice che qui, quando c'erano le baracche, l'ingresso fosse precluso a tutti, ci fosse una sorta di controllo. Tu dov'hai? Che fai? Lo stesso postino che veniva qui doveva essere uno conosciuto, uno del luogo, perché altrimenti uno non sapeva dove andare, visto il numero di baracche, due non lo avrebbero fatto entrare. Luzza, che stiamo? State dietro. Mastronardi? Niente. Callelli, quest'altro è Archiante, state là. Barone, Benedetto Mancini, a Petecchia. Ci sono delle fermate, io mi fermo, fisso, la gente viene a piegare la posta. Pasolini ha girato tantissime cose qui dentro e ha messo anche in evidenza la povertà culturale dei bambini che vivevano qui all'interno. Cioè, ragazzini che da qui non potevano andare da nessuna parte, perché non è come oggi che c'è la metropolitana, ci sono le strade. Questa era campagna pura. Chi viveva qua, da qua non si muoveva. E chi provava ad entrare in città da qui, veniva visto come un reglietto, uno sozzone, uno che viveva alle baracche del Mandrione. E da lì allora hanno deciso di delinquere tante persone. Chi è stato fortunato dopo il 1943, negli anni successivi, è riuscito a trovare un'abitazione. Ma le baracche non sono state demolite, le hanno vendute. Cioè, uno che si era costruito a baracca ha detto, sai che c'è? Mo prendo e me la vendo. A chi la vendo, a uno più disperato di me. E come hai fatto ad avere questa casa? L'ho comprata così, per mezzo ad amici. Ci ho dato qualche soldarello e poi... Perciò hanno iniziato a vendela ai Rom, alle persone povere, a chi era uscito dal carcere, a chi voleva fare qualche attività illecita, alle prostitute. Via del Mandrione, nella parte più avanti, è famosa anche per le prostitute. Ci sono tantissime foto dell'epoca, ma ancora oggi c'è qualche casetta, qualche baracca, con qualche vecchia prostituta, che ancora riceve i clienti, magari i clienti un po' in là con l'età. Via del Mandrione, questa era proprio la primaria, erano le baracche semplici. Cioè, quelle che erano venute dopo. Andando avanti, dal secondo al terzo arco, e questo è l'acquedotto, guardate, ancora oggi è tenuto benissimo e sarebbe da far visitare. Invece la parte alta. Troviamo la parte con più ville, con aree più grandi, ma la cosa interessante è che a Via del Mandrione, a un certo punto, negli anni Sessanta, si è sviluppata anche una parte commerciale e industriale. E voi direte, come cacchio funziona? Funziona che c'erano magazzini, artigiani, autorigambi, carrozzieri, di tutto e di più, e ce ne sono ancora oggi anche tanti, nonché artisti all'inizio di Via del Mandrione. E tutte queste cose qui, tra virgolette, erano losche, perché giustamente la parte umana era quella che c'era all'interno. Tutta questa parte qui è stata poi bonificata dalle baracche, oggi non ci sono più. E' rimasto qualche cenno delle baracche, perché vi faccio vedere alcuni dettagli. Qui, se ci fate caso, oltre alla parte di mura normali, ci sono dei foratini che erano stati utilizzati per costruire praticamente la parte, chiamiamola di casa, di queste persone. Qui all'interno c'era un'area verde, che adesso è stata, tra virgolette, liberata, ma poi è stata abbandonata, dove anche qui erano tutte baracche, tutta una serie di costruzioni. Oggi è diventata, lì dietro, un giaciglio magari di fortuna. Qui ogni tanto ci scaricano mondezza, roba varia. Eppure qui c'è sempre il brutto vizio di scaricare le cose, magari residui di appartamenti, lavorazioni, eccetera. Lì c'è un monitor o altro. E questa è una brutta abitudine romana. Questa è anche una zona dove si dice che venivano fatte sparire persone. Infatti, negli anni 80, quando ci passavo con mia madre, anzi, tardi anni 70, si aveva paura, perché noi partivamo dalla parte della casilina e arrivavamo qui, era una scorciatoia enorme. Quando tu passavi qui, passavi finestrini chiusi, sicure chiuse sotto e testa abbassata per non far te neanche vedere. Ti guardavano in un modo assurdo. Io ancora mi ricordo, c'erano dei tizi, tutti i sozzi, che ti costruivano i denti, che ti grignavano. Chi è questo? Mi madre costruiva 500 che passava sparata. Più passavi veloci e meno rischiavi. Però se ti dicevano di rallentare, dove di rallentare. E qui ancora si vede tutta la parte relativa a chi aveva costruito baracche da una parte e baracche dall'altra. Mentre camminavamo, ci ha fermato poi un signore del luogo e mi ha ricordato che qua il mostro del quadraro, il signor Gargiulo, il vino Gargiulo, portava pezzi delle vittime perché lui aveva la baracca di cattiere qui sotto vicino al quadraro a Via Demetriate e qua praticamente pezzi di persone che lui aveva ucciso furono ritrovate. Mi raccontò che una parte li bruciava, una parte li nascondeva. Una storia molto particolare. Anzi, se vi interessa il mostro del quadraro, scrivetemelo qua, mi documento meglio e vi faccio anche un racconto sul mostro del quadraro. Adesso vi porto un primo esempio di quello che erano poi delle costruzioni a ridosso dell'acquedotto. Dall'altra parte qui c'è un gruppo di case praticamente che vennero costruite tantissimi anni fa e che oggi sono praticamente case a tutti gli effetti. Perciò qui fuori hanno il secchio della spazzatura dove viene la nettezza urbana a ritirarlo. Si accede attraverso l'acquedotto e poi hanno costruito, vedete, all'interno tutta una parte dove ci sono case, casette, anche l'orto è un qualcosa che è stato costruito nel tempo e dove anche le strutture sono non dico di fortuna ma qua qui addirittura fatti il lamiere, il cancello, ogni casa è diversa. Case basse, case alte, l'orticello, il parcheggio delle auto e qui poi ci sono tutte quante le famiglie che vi abitano. E questo è proprio un primo esempio di vivere in via del mandrione. Purtroppo la sfortuna vuole che qui fuori gli fanno il casino perché qui qualcuno ha dato fuoco qui avevano messo diciamo dei separatori per evitare che la gente ci parcheggiasse ci buttasse le cose ma questo è durato poco. Comunque procediamo e superiamo il terzo arco. Da qui inizia a essere tutto più popolato popolato per modo di dire perché qui da una parte ci sta una sorta di magazzino chiamiamolo rimessa non lo so come definirlo come vedete è tutto un po' accroccato cioè c'è una rete c'è un po' dei pezzi di muro hanno messo un telo eccetera eccetera un divieto di sosta attenti al cane e di qua c'è un magazzino abbandonato anche di grosse dimensioni andando avanti vi da idea di come erano strutturate anche un po' le baracche ai tempi questa è costruita abbastanza bene però se ci fate caso porte piccole muri che vanno verso l'acquedotto e qui ci sono le case che negli anni poi sono state condonate tutte quelle cose che sono state costruite dal dopoguerra andare avanti e sono poi tutte casette diverse carine c'è chi ci ha investito adesso hanno tutti la cea il gas la luce prima una volta si tiravano dei fili ci sono ancora sull'acquedotto attaccati dei palli dove passavano questi fili provvisori adesso c'è anche l'illuminazione c'è tutta la parte fa sì che le auto rallentino perché questa è una via dove non c'è marciapiede la gente cammina in mezzo alla strada se le macchine qua iniziassero a sfrecciare sarebbe veramente pericoloso e ognuno a modo suo si è arrangiato in qualche modo stiamo proprio con case sotto l'acquedotto che oggi hanno un'impostazione e una costruzione di altri tempi ognuno in base ai soldi che ci aveva si è costruito diversamente vedete qua addirittura hanno fatto una bella finitura con i sassetti hanno messo un cancello di un tipo qui il cancello di un altro tipo se vedete anche la parte elettrica è ancora abbastanza arretrata guardate per esempio i pali come portano i fili da una casa all'altra come praticamente ogni cancello ogni muro è diverso l'uno all'altro con tanto di civici con tanto di orti eccetera mentre dall'altra parte c'è la parte chiamiamola industriale perciò quella che è stata espropriata comprata gestita sia dalle ferrovie ma anche da grandi aziende una cosa che colpisce molto è vedere magari una casa ben tenuta che a un certo punto poi si stacca e c'è una casa abbandonata questa casa qui è proprio completamente abbandonata probabilmente in parte anche pericolante però chi magari vive lì e sta tranquillo poi si ritrova il degrado accanto in un luogo abbandonato dove qua all'interno puoi trovare tutto questa onde evitare di renderla abitabile è stata anche murata poi c'è ancora la porta ci sono ancora vedete le putrelle che tengono su tutto quanto ma ormai la natura la fa da padrone ed è arrivata fino alle mura oggi che ci siamo noi c'è un po' di movimento biciclette motorini perché c'è sempre un po' di sospetto quando vedi qualcuno magari che gira con una telecameretta un microfono chissà cosa succede tra l'altro da questa parte qui c'era un complesso commerciale dove c'era anche una palestra c'erano altri locali che purtroppo è fallito vuoi per la via chiamiamola non di passaggio vuoi probabilmente perché gli affitti magari erano alti adesso questo non ve lo so dire di sicuro adesso qua è stato abbandonato se vedete comunque c'è la possibilità di avere sia i parcheggi sia di avere comunque una parte commerciale continuano le ville le case tutto quello che riguarda un pochettino vecchio stampo addirittura vedete qui sono usciti anche a livello di strada ma colpisce tantissimo che c'è anche la parte istituzionale qui c'è la residenza universitaria della Sapienza cosa significa che qui chi è fuori sede chi non ha la possibilità di abitare può venire in questa residenza universitaria e viverci ovviamente attrezzo richieste eccetera continuando su questa strada noi adesso stiamo passando sopra un cavalcavia che porta via di Torpignattara via Torpignattara ve l'ho fatta già vedere è una zona multietnica di Roma assolutamente interessante si collega praticamente la casilina alla parte della Tuscolana qui potete notare come uno stabile istituzionale confina con un qualcosa costruito così alla bene e meglio che è questo qui e poi ovviamente qui accanto ci abbiamo anche un locale di ristorazione pizzeria ristorante perché effettivamente questa è una zona vicinissima anche alla Movida purtroppo quest'area è completamente chiusa anche qui dal cavalcavia non si può salire questo ponte una volta veniva utilizzato e passa con tanti automobili mezzi eccetera ormai anche questo è a rischio crollo ed è interdetto l'accesso anche da sotto una volta si saliva da sotto qua sotto veramente passano tante auto lì passa il treno e lì salivi sopra e stavi per via del Mandrione oggi è transennato adesso ve lo faccio vedere di qua siete meglio e invece il traffico che c'è qua sotto è veramente tanto questo era diciamo l'accesso a via del Mandrione da una zona molto trafficata è completamente chiuso perché quest'area è pericolante è pericolante questa è pericolante il cavalcavia e perciò meglio così che l'abbiano chiuso qua riusciamo a vedere come erano veramente le baracche una volta a via del Mandrione considerate che molte volte pure loro si devono porre arrangiare vedete il Mandrione è stato fatto fondamentalmente a mano adesso ne è rimasto un pezzo però da questo punto di vista rimane uguale a com'era 50 anni fa via del Mandrione cioè c'è ancora tutta la parte degli orti tutta la parte questa delle piccole casette queste che sono un po' più grandi salve signora buongiorno che è successo? stiamo facendo un documentario sulla via da quanto ci abita lei? io? eh posso metterla nel documentario? io ho sono 43 anni che sta qui io sto con il Mandrione e come si trova? bene adesso insomma però prima era meglio il Mandrione era meglio ma adesso con il fatto che hanno chiuso entrano meno macchine eccetera è meglio per voi residenti? un po' meglio quello che cammina con la macchina che maturino no perché non può loro non può né entrare né uscire un macchino era prima meglio perché potevano entrare e uscire certo e la vita era meglio era più pulita era più onessa non c'era la gente che andava su e giù a sfasciare la casa a sfasciare la macchina non c'era non c'erano c'era un po' di di donne così che Mandrione sempre malfamata c'erano c'erano le donne quelle che stavano era malfamata era meglio quello così malfamato che quello abbandonato che adesso tra malfamato e abbandonato forse era meglio malfamato era più attivo più funzionante certo certo ok grazie qui mi trovo di niente lei di dove è originaria? io Capo Verde Capo Verde e sei sposata in Italia? no non sono sposata sono sposata a Capo Verde sono venuta nel 70 in Italia lavorare e è rimasta qua? è rimasta vado e vengo e vado lavoro faccio la cosa vado a passare la feria mia al paese mio lei abita proprio qui? sì senti ma tu consegni qui a via del mandrione sì anche è difficile abbastanza tra le case le cose abbastanza si non si capisce niente tu sei di zona però sei di Torpignattara vabbè allora la conoscevi a zona sì la conoscevo però 350 cioè ora per dire io sto con la macchina ho parcheggiato sotto al pontile e me la sono fatta a piedi per qua perché sennò cioè devo fare tutto il giro per là entra qua e poi dovrei far giro e riuscire ci mettevo 10 minuti a fare questa cosa invece siccome ho pure altre consegne così mi sbrigo me la sono fatta a piedi però riesco a fare mappia eh certo cioè lì c'era un casale molto grande tipo quello lì sì tipo quello là e poi? e poi hanno buttato tutta terra hanno buttato il casale qua e rimasto così ma questa qui l'ha costruita lei o gliel'hanno data già costruita? l'hanno data così qui sono degli anni 50 ma dentro c'è là c'ha tutto acqua, luce, gas il bagno acqua, luce eh sì perché hanno ormai condonato tutto infatti vedo pure le fogne una volta non c'erano questo è così perché mi è cascato c'era un albero qua grosso alto sì era bellissimo è crollato è cascato mi è cascato sopra ah è cascato proprio sulla casa sopra la casa e come ha fatto l'ha risistemata? no 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 non si fanno niente è venuto il comune non so che l'ha tagliato tutto mi ha lasciato così si è rotto proprio il tetto si mi è rotto tutto comunque è interessante perché questa mantiene la vecchia struttura che c'era proprio all'inizio proprio costruite capito con i blocchi d'ufo grandi la malta sopra molto caratteristiche era molto bella mandrionna le cose io ho la cosa ma adesso mio figlio ma non so dove la mia ma ci abita solo lei qui? io e mio figlio quanti anni ha suo figlio? 42 ah beh grande ma allora lei sembra più giovane quanti anni ha? 77 77 ammazza complimenti ciao 77 mio figlio è di 40 anni però hai capito la signora questa che rimane veramente storica uguale identica proprio come casetta come baracca come in questo caso dove abbiamo parlato con la signora ci sono anche delle aziende per esempio questa è un'azienda qui dietro c'è un'altra azienda che oggi è chiusa dove si gestiscono per esempio qui estintori antincendio bombole tutta una parte dei depositi se guardiamo tutta questa struttura qui è un magazzino adibito a industria perciò oggi è chiuso non riusciamo a vederlo ma considerate che da qui si estende e subito dopo c'è un grande centro sportivo che continuano anche le case case che nel tempo sono state anche viste riviste rifatte sistemate per farvi capire così una volta venivano costruite le case questa era la finestrella del bagno qui andavi avanti qui c'erano le finestre ovviamente più blindate possibile ma era costruito alla bene e meglio questa è proprio storta infatti non a caso hanno messo anche gli indicatori per evitare che magari qualche mezzo ci sbatta qui sull'angolo quando è caduto l'albero ha spaccato praticamente il muro poi un po' l'hanno ricostruito un po' l'hanno risistemato e qui poi ognuno si è fatto pure l'orticello lo chiude fa un po' da magazzino con la catena eviti che succeda ovviamente qualche furto anche nei piccoli orti se guardiamo là dietro ormai è tutto abbandonato qui si può vedere benissimo l'acquedotto e anche la maestosità dell'acquedotto perché quella parte alta che svetta proprio sopra una strada di passaggio è veramente particolare questa rete ormai qua ha qualche anno forse è il caso di controllarla perché se cadi qua sotto oltre che alto ti becchi pure una macchina questa è la parte chiusa di via del mandrione per circa 200 metri la strada è completamente chiusa perché c'è un problema strutturale qui abbiamo la banca d'italia o comunque un distaccamento della banca d'italia e da qui è interdetto l'accesso alle automobili ai mezzi tutto quello che potrebbe pregiudicare gli scavi o altro dall'altra parte la stessa identica cosa due jersey grandissimi che precludono l'accesso ai mezzi a quattro ruote poi qualche motorino passa sempre anche qui la situazione è abbastanza drammatica perché qualcuno credo che abbia pure rotto urtato non lo so o l'hanno messo già rotto ma ma già è una cosa del genere da qua noterete che è veramente commerciale questa parte ci sono tra le migliori carrozzerie e i migliori elettrauto di Roma qui a Via del Mandrione perché qui è nata proprio la tradizione del sistemare le macchine dapprima in maniera illegale perché rubavano i pezzi li portavano qua allora quei pezzi rubati ti aggiustavano la macchina te la sistemavano quello si specializzava diventava carrozziere piano piano sto mestiere è nato ed è cresciuto tantissimo e all'interno di una via del genere voi immaginate che c'è una struttura grandissima come questa guardate è lunghissima questa è della Banca d'Italia non so di preciso che cosa faccio però Banca d'Italia ti fa pensare a qualcosa di statale come detto prima lo Stato all'interno anche di una via che è nata nell'illegalità la parte dell'acquedotto è sempre presente perché l'acquedotto ha guidato la costruzione della via ha guidato la costruzione delle case delle baracche e tutto quanto e quello che vedete lì su e ce n'è uno ogni tot erano i famosi pali di metallo che portavano i cavi elettrici poi sono stati tolti e adesso sono rimasti quasi come ornamento luoghi dove addirittura fanno la birra fanno di tutto guardate come era strutturato mattoni calce lamiera e veniva su praticamente un muro un'area oggi ci sono tutte queste strutture che si sono mantenute nel tempo e che veramente non so cambiate da 70 anni da 80 anni a sta parte sicuramente ci hanno rimesso mano perché qualcosa sarà crollato immagino che qui ci sia pure qualcuno che ci abiti perché qui vedo per esempio una sorta di presa d'aria finestre non ce ne sono però ci sono qualche grata qualcosa ed è un muro che si staglia lungo tutta la via e che praticamente confina dall'altra parte con strutture dove per esempio qui c'è una scuola di danza lì ci sono altri magazzini con tanto di scale antincendio perciò hanno rimesso poi a norma un po' tutto quanto a un certo punto finiscono tutte le varie baracche qui dentro ci sono diverse famiglie più c'è anche un vivaio e da qua in poi hanno chiuso che è la cosa migliore proprio per evitare che ci vengano a scaricare dall'altra parte si vede il vivaio tutte le serre eccetera perché all'interno di questa struttura da questa parte ci sono diciamo le abitazioni dall'altra c'è pure il vivaio tutto lungo fino alla casilina e la casilina secondo me è la parte più carina da vedere perché è quella che nonostante abbiano costruito dentro l'acquedotto sotto l'acquedotto attaccato all'acquedotto ci sono le strutture più belle voi immaginate quanto era piccola pure una porta ai tempi arrivate qui a malapena c'entro io venendo qui a Pionti troviamo un po' i resti di piccole abitazioni di fortuna qui invece all'interno ci sono altre baracche che sono a ridosso praticamente delle mura qui c'è un'area agricola tra l'altro protetta da un cancello e dove avvisano che ci sono anche telecamere e lì c'è per esempio una baracca tutta una parte di coltivazione salendo di qua troviamo un parcheggio parcheggio perché perché qui ci sono alcune aziende da questa parte dei consorsi veri e propri è carino vedere che ci sono ancora le piastrelle che erano state messe un tempo questa montagna di terra qui non c'era tanti anni fa vedete quelle sono piastrelle come se qualcuno avesse costruito lì una cucina un bagno e di qua avessero costruito un'altra stanza perché come vi dicevo le case venivano costruite proprio negli anfratti dell'acquedotto qui c'è un po' di movimento strano perché pure qua ci sono ancora i resti di una piccola abitazione una finestrella che si affaccia dall'altra parte qualcuno ha scaricato qui c'è puzza immondizia qualche motorino diciamo che quando è così questo è il brutto vizio tra calcinacci residui industriali un po' di tutto c'è veramente veramente tanta puzza ed è qui che quando c'è l'abbandono perciò indipendentemente da tutto che cosa fanno fanno sparire da una parte gli occupanti tutte queste figure qui e poi invece ti ritrovi che vengono qua scaricano fanno i comodi loro porcherie nulla nulla di utile praticamente ma anfratti di ogni tipo e di qua poi invece vediamo che ci sono pure attività commerciali tipo un palazzo tutto bello ristrutturato qua sotto c'è il famoso ristorante trattoria da accattone che è ispirato a francocitti francocitti era l'accattone di pasolini pasolini frequentava questa zona frequentava la vicinissima zona qui di casilina e in particolare la zona del pigneto dove ha girato accattone che è proprio qua dietro e francocitti è proprio l'ispirazione questo ristorante dove c'è cucina romana purtroppo è brutto vedere come l'inciviltà delle persone va veramente a rovinare un qualcosa no mondezza buttata alla monnezza di qua e qui siamo al confine con la via casilina è un passaggio con strade all'interno che riporta sulla tuscolana e in particolare all'altezza di via sisi perciò la prima parte della tuscolana ed è molto particolare come vedete perché qui è stato rialzato il terreno perché sotto ci passa la ferrovia e da qua camminando tra i vicoli di quest'area si arriva praticamente sulla via tuscolana ed è anche strano vedere un passaggio così qui spesso passano quelli con le bici che fanno le consegne del cibo e come notate questa è una costruzione veramente vecchio stile guardate addirittura il tetto in legno con sopra praticamente la grondaglietta e il muro costruito a mano è come camminare nella vecchia Roma anni 50 ognuno poi vedete aveva costruito in maniera diversa le finestre all'altezza diversa qui è tutto tufo qui è tutto mattoni lì è tutta muratura qui c'è una rete e qui la vecchia Roma la Roma delle baracche la Roma delle persone sfollate si ricongiunge alla Roma moderna quella dei palazzinari quella delle zone praticamente che sono sorte dopo voi immaginate che da sta parte qui era tutta campagna e qui se guardate è tutta Tuscolana questa è via Assisi questo è proprio il fondo di via Assisi che è quella via che poi dalla Tuscolana arriva fino a qua giù e qui c'erano pure delle vecchie fabbriche a livello industriale molto grande che negli anni 60 agli anni 70 lavoravano tantissimo qui hanno messo proprio l'indicazione mandrione casilina questo è questo è un pezzo di mattone di tetto e da qui passando per le case si va proprio a via del mandrione c'è da notare che è più pulito e tranquillo qui che è una zona isolata che per dire alla stazione Termini qui hanno messo una cappella che era un classico di Roma quando c'era uno spazio che si poteva utilizzare si metteva una cappella di culto e qui vedo che ci sono addirittura le foto magari di qualcun'est non so se è dedicata esplicitamente alla Madonnina o anche a delle persone che stanno dentro però questo era un classico su Roma qua è possibile vedere uno snodo ferroviario veramente grande che passa sotto gli acquedotti ci sono ben sei binari che passano qui sotto e che poi sono quelli che si snodano per Roma qui addirittura si incrociano due linee diverse la linea che viene da est e la linea che viene da nord si raccordano tutte quante infatti sono tantissimi i treni che passano una delle particolarità di via del Mandrione specie questa parte da qui fino a via dei Savorgnan era la presenza delle prostitute inizialmente le prostitute si mettevano sotto gli archi dell'acquedotto però poi a un certo punto c'è stata l'evoluzione perché consumare il rapporto sotto gli archi dell'acquedotto quando puoi comprare una piccola baracchetta e all'interno ci puoi uno vivere e due portare i clienti e inizialmente sta cosa funzionava così bene che si era estesa c'era proprio un piccolo quartiere chiamiamola luci rosse dove c'erano tante prostitute qui su via del Mandrione che permetteva praticamente di venire la sera la mattina essere coperti essere tutelati e andare con queste donne ancora oggi qualcuna c'è sono anziane sono persone che giustamente provano ancora a fare sto mestiere ci hanno qualche cliente affezionato ancora in vita per il resto ormai è andato tutto a morire ovviamente quelle poche rimaste le trovate attraverso un sistema abbastanza antiquato gli annunci sul giornale AAA offresi eccetera eccetera zona Mandrione zona via di Savornian che via di Savornian come ho detto era l'inizio di questo piccolo quartiere a luci rosse che si estendeva con le baracche con le vecchie baracche che poi erano state condonate riutilizzate erano un po' la storia di quello che era il sesso a via del Mandrione sesso che andava di pari passo con la criminalità che andava di pari passo col furto con la ricettazione con tutto quello che poi via del Mandrione rappresentava sia a livello storico che a livello storico criminale hanno creato un marciapiede chiamiamolo provvisorio perché qui ci sono altre case queste sono abbastanza particolari perché sono proprio attaccate con l'acquedotto cioè questa palazzina qui se guardate è confinante è proprio attaccata utilizza l'acquedotto proprio come muro e qui si estende fino a via casilina vecchia che è quella che adesso noi andremo a incrociare qui ogni ingresso come dicevo è diverso fa molto paese cioè sono case con scalinate molto ripide ognuna diversa finestra a livello strada questa parte qui la mettevano per evitare che si allagassero le case c'era la possibilità che qui quando pioveva siccome questo era terreno di campagna agricolo non è che c'erano guide quando pioveva tantissimo si poteva allagare e hanno costruito in modo tale da evitare questa cosa incrociamo di nuovo l'acquedotto ci sono poi tutte le case collegate con l'acquedotto da questa parte vedi questa è proprio la parte originale dell'acquedotto e sulla stessa poi sono le case salve signora stiamo facendo un documentario su via del mandrione è tanti anni che abitate qua voi? da quanti anni è che abita? da sempre ah beh pochi in proporzione però non pochi e come vi trovate qua su via del mandrione? ok grazie addirittura il citofono è sulla parte dell'acquedotto cioè è stato addirittura inserito qui il cancello vedi è sempre collegato con tutta la parte dell'acquedotto e qui inizia via casilina vecchia non è più via del mandrione e questa è la parte che sta di qua rispetto all'acquedotto perciò non più su via del mandrione e come vedete ci sono case anche belle molto curate ristrutturate alcune anche con le botteghe sotto per esempio qui c'è il faligname e ogni angolo qui era utilizzato qui se uno entra c'è una casa che tra l'altro c'è una doppia uscita qui è stato costruito finalmente poi un marciapiede e molti di questi archi al di là del fatto che ci sono delle abitazioni all'interno sono stati murati proprio per evitare che succedesse magari che gente scaricava ci parcheggiava o altro e qui lungo la strada sembra un piccolo paese guardate questa è una piccola cantina per esempio a colpo d'occhio questa è un'area bellissima da far vedere pure ai turisti secondo me come fosse un piccolo borgo all'interno della città perché a questo punto ragazzi siamo arrivati al centro della città perché alla fine di qua c'è l'inizio di via Casilina nonché tutta la parte di San Giovanni perciò Tuscolana Appia San Giovanni è tutta di là in un piccolo paese che è completamente diverso dalla città di Roma ed è l'esempio di come dal degrado dalla disperazione delle persone che si erano ritrovate a vivere qui dopo i bombardamenti perché non avevano casa perché erano poveri perché non c'havano voglia eccetera eccetera si sono ingegnati hanno iniziato a costruire perché ogni singola casa se la sono costruita con le mani loro tantissimi erano dei manovali che a un certo punto hanno detto sai che c'è lavoro faccio il manovalo tutto il giorno ma mi costruisco casa da solo e ci sono anche tante associazioni tipo questa è una scuola di musica più avanti c'è una scuola di danza ci sono ancora officine ci sono luoghi comunque dove si lavora e dove si vive la famosa casa e bottega era un classico che si faceva qui perché non avendo la possibilità di prendere la bottega in centro tu sotto la casa che hai costruito c'è la bottega e ancora oggi qualcosa c'è però al di là della parte vedete l'abbandono la parte strutturale anche di difficoltà che ci sono si cerca anche di mantenere le zone bene come vedete qui c'è un'area verde che ha accesso ai bambini e più avanti c'è anche l'area cani qui c'è la famosa scuola di danza che vi dicevo che è collegata anche con questi magazzini che è tenuta bene che cercano di delimitare gli spazi mettendo vasi ghiaia evitando così che magari qualcuno venga qui e scarichi praticamente questa è proprio l'esempio di vecchissima struttura costruita proprio a ridosso delle mura dove addirittura i bagni erano esterni quella parte angolare spesso erano i bagni che erano esterni alla casa e stavano sostanzialmente sul balcone in alcuni casi lo stato estetico ma anche strutturale di alcune abitazioni è un po' patiscente ci può stare perché sono strutture che ci hanno veramente tantissimi anni e che rappresentano un po' la storia di Roma trovarsi vedete situazioni del genere dove c'era una volta un'azienda dove c'era una volta magari qualcuno che vendeva avvolgibili o altro e adesso è diventata una cosa così completamente abbandonata stando poi a ridosso di un monumento perché ragazzi noi ridiamo e scherziamo a Roma pensiamo che se una cosa è del 1600 non è antica come il Colosseo non è antica come i fori imperiali però anche questi sono monumenti ma anche questa cosa qui il fatto di trovare delle case il fatto di trovare abitazioni in questo modo anche molto molto particolari perché veramente è un modo di vivere completamente diverso da quello della città fa pensare che è un patrimonio a tutelare è una storia a tutelare c'è un'azienda che si chiama Roma Antica artisti scultori che fanno opere che si ispirano alle statue romane vedete questo è un classico rifacimento in marmo di un prodotto e qui se ci affacciamo c'è la bocca della verità ci sono busti romani ci sono fontane di tipo romano qui hanno fatto l'altra entrata quella chiamiamola principale con un rifacimento originale dei San Pietrini romani qui hanno fatto un remake del Colosseo perché quale monumento rappresenterà più Roma se non il Colosseo che sta proprio sul ponte della ferrovia tra l'altro perché questa qua sotto è la ferrovia qui c'è il Colosseo e qui c'è la ferrovia c'è un po' di tutto dai bronzi di Riace da questa parte addirittura pezzi dell'antica Roma angioletti aquile un po' di tutto antichi romani colonne se uno veramente vuole venirsi a fare in giro è anche carino solo da vedere se adesso vi faccio vedere quanto è stretta tutta la parte finale di questa via vi mettete paura perché poi questa esce proprio sul via della casilina classica già un'automobile fa fatica a passarci voi figuratevi quando vengono le persone fisicamente tutti i binari e qui ci sono tutti i magazzini delle ferrovie dello Stato se ci affacciamo si vedono i vecchi macchinari e anche i macchinari che vengono utilizzati per fare manutenzione a tutta quanta la parte dei binari tutti i vecchi macchinari tutte le parti di ricambio e qua ragazzi pure il degrado questa è un'area probabilmente dove vengono i tossicodipendenti perché abbiamo visto diverse siringhe qui ci sono delle sedie è abbastanza nascosta essendo abbandonata come dicevo sempre quando una parte viene abbandonata il degrado fa da padrona e inizia l'illegalità e questo purtroppo è il problema che c'è sempre a Roma veramente è molto suggestivo è bello da vedere ed è una testimonianza come dicevo di un passato che non c'è più ma che comunque viene riproposto attraverso queste strutture che ci sono ancora la parte moderna che qui passa sulla ferrovia che ricollega la parte vecchia dell'acquedutto un ticello che le macchine a malapena ci passano lasciarlo al traffico è una follia e qui sotto è passato pure l'Eurostar cioè non stiamo parlando di cambi di treni così e superato questo arco qui attraversiamo e siamo sulla Casilina Casilina una delle arterie di Roma una delle strade dove c'è veramente tanto traffico e io da qua a questo punto vi saluto spero che vi sia piaciuto vedere questo scorcio di Roma questa parte ricca di storia sia storia normale che storia criminale dove anche qualche turista ci viene e con lo sfondo qui dell'acquedotto vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.